Proporre soluzioni automatiche per l'intralogistica significa offrire ai propri clienti soluzioni che mirano al miglioramento complessivo dell'efficienza della qualità delle operazioni di magazzino, riducendo errori e costi di gestione ed ottimizzando tempi di evasione degli ordini e l'utilizzo dello spazio. Queste soluzioni includono robot e sistemi automatici per la movimentazione, lo stoccaggio e la gestione delle merci, l'integrazione di sistemi di identificazione e tracciamento dei flussi logistici e l'utilizzo di algoritmi e software sempre più avanzati per l'ottimizzazione delle operazioni. L'esperienza e la competenza nel settore dell'intralogistica sviluppata in oltre 70 anni di attività, un approccio consulenziale, una vasta gamma di prodotti e servizi e una continua e costante innovazione tecnologica sono fattori chiave che consentono agli Ungari di proporre soluzioni su misura che soddisfano le esigenze specifiche dei propri clienti.